allora questa batteria qui adesso lo smontata verso il coperchio superiore questo è l'attacco che va al motore siccome sta batteria i cinesi ne hanno pensato bene che si può usare anche da power bank a me non me ne frega niente l'ho tolto e mi rimane questo buchino qua praticamente vorrei fare mettendo una xt 60 riuscire a metterla qua un po in dentro in modo che posso anche chiuderlo o anche così fuori non è che mi interessa tanto bloccarla e mettere in parallelo le altre batterie esco con xt 60 vado le altre batterie così da far diventare 12 ampere le batterie oppure posso anche usarla singolarmente se tanto devo star qui a girare vicino casa adesso sto pensando un po come fare